Inaugurazione del nuovo ristorante e pizzeria Eraclea di Gianluca e Cristina. E' stata un'apertura col botto con decine di persone che hanno voluto partecipare all'aperitivo di benvenuto. Oggi una grande giornata, la nuova Eraclea inaugura. Intanto siamo con Cristina e Gianluca. Ciao Cristina. Ciao a tutti, buonasera. E qui abbiamo Gianluca, ciao. Ciao, ciao ragazzi, ciao, ciao. Senti, grande entusiasmo, già alle quattro, gente già pronta. Sì, purtroppo sì. Come purtroppo. È stata una grande partenza. Sì, sì, sicuramente. Il nuovo Eraclea vi aspetta tutti i giorni per una pizza in compagnia cucinata nel forno a legna. Il consiglio per la pizza, una pizza che bisogna assaggiare quando si viene all'Eraclea. E Nino Manfredi. La pizza Nino Manfredi? Sì. Fantastico. Perché abbiamo il giro di cià che si gira di tutte le pizze con tutti i nomi di grandi nostratori. Nino Manfredi, Sofia Loren, Fracociccio, eccetera, eccetera. Scoprite anche la cucina. Ottime specialità di pesce, sempre freschissimo, ma anche gustose ricette a base di carne. E poi la carta dei dolci che mette l'acquolina in bocca, tutti rigorosamente fatti in casa. Il ristorante e pizzeria Eraclea ha ambienti caldi ed accoglienti e nel periodo estivo c'è anche la terrazza esterna. Il locale può ospitare cerimonie importanti come comunioni, battesime, lauree e compleanni. Nuova Eraclea vi aspetta dal mattino con le colazioni, pausa pranzo sfiziosa con ottimo rapporto qualità-prezzo e poi cena con le bontà dello chef Gianluca. Nuova Eraclea è in Viale Cristoforo Colombo a due passi dal lungomare. Per prenotazioni 041 49 67 446